52 anni e non sentirli. Dal 1966 è il festival Canoro più longevo del territorio. Lo scorso weekend Gallo di Pedriano è stato infatti il tradizionale palcoscenico del Gallo d'Oro. Rassegna seguita anche dalle telecamere di Rossini TV che vi riproporrà sul nostro canale 80 l'integrale serata del festival domenica 4 agosto alle 21.20 preceduta sabato 3 agosto dalla serata del Galletto d'Oro sempre alle 21.20. Siamo stati molto soddisfatti per le due serate cantanti, quella del Galletto d'Oro e quella della cover dell'esebizione dei cantanti grandi ed è stata molto bella anche la serata dedicata allo show del format anni 90. I cantanti sono stati eccezionali con una bella performance vincitrice Stella Baioni del festival. Procediamo questa settimana con l'ultimo evento in programma che è quello di questa sera della proiezione del film di Giorgia Righi Ancora volano le farfalle. Il film è girato in paese con tutti i personaggi locali anche che hanno fatto le comparse, i luoghi dove Giorgia ha vissuto e vive tuttora quindi tutto riporta alla sua vita.